Chi ha avuto una moto lo sa, con la bella stagione la voglia di rettilinee e piegate, di sentire il rombo dei motori aumenta a dismisura e le strade in montagna si prestano certamente più di quelle di pianura. Comprensibile ma non giustificabile quando si viola il codice della strada e si scambia l'asfalto, percorso anche dagli altri per la pista di un motodromo. La polizia stradale vigila. L'attenzione nostra è rivolta in particolar modo verso quei motociclisti indisciplinati e faremo con tutto l'impegno possibile coinvolgendo anche le altre forze di polizia, quindi arma dei carabinieri, polizie locali e ovviamente la questura per far sì che questi pochi motociclisti indisciplinati non mettano in crisi la circolazione delle strade. La sicurezza affidata alla polizia stradale non consiste solo nel cercare di sventare per quanto possibile il rischio di incidenti, sorvegliando e sanzionando quando necessario comportamenti scorretti. Sulle strade viaggiano infatti anche molte merci sensibili, tra cui derrate alimentari, dalla cui corretta conservazione può dipendere poi la salute di chi ne sarà il consumatore. La polizia stradale garantisce il suo impegno, come diceva giustamente, sul controllo delle merci, qualsiasi tipo di merci, quindi merci pericolose, merci alimentari. E' di poco tempo fa un'attività importante che abbiamo fatto sulle strade dove abbiamo trovato dei trasporti alimentari che trasportavano merci in maniera promiscua e che metteva in crisi la sicurezza e l'igiene pubblica, per cui abbiamo sanzionato per oltre 5-6 mila euro questi trasporti.